8.000 di ante! Ante! 2! 2! 3! E ciao a tutti ragazzi! Quest'oggi voi vi dite Come mai stai facendo un vlog? Sto facendo un vlog perché raga ve lo meritate, soprattutto merito vostro se io sono sempre qui sempre qui a rendere la mia faccia Ah come potete vedere mi sono curato come diciamo perché ovviamente tutte le persone normali quali sono io cioè proprio io sono tutte le persone normali dentro di me c'è il mondo no comunque mi sono curato perché io ci tengo all'immagine, mi sono fatto la barba mi sono pulito, che vergogna! Raga perdonatemi ma non mi so fare la barba cioè non è che non me la so fare aspetta presupponiamo questo non avendo la macchinetta cioè quello che fa... cioè non posso accorciarmi peggio i peli non posso diciamo accorciarmi cioè a voi non ve ne fotterà un cazzo sicuramente ma ve lo racconto lo stesso allora cioè non posso accorciarmi i peli della barba cioè seriamente raga sto facendo un video su come depilarsi la faccia oh mio dio ma sì ma che cazzo ce ne fotte non potendo accorciare i peli della faccia ragazzi cioè appunto mi crescono e sto diventando il nuovo Billadell italiano cioè il nuovo Saddam appena mi arriverà tipo la barba qua tipo no alle tettine no? mi arriverà la barba là tipo comincerò a parlare tipo tipo tu amico mi ha detto tu parla cos'è o tipo porto un metro porto tu amico e amico tutto negri o nero capito cioè comincerò a diventare islamico lineamenti islamici comunque ragazzi cioè scusatemi se ma devo andare dal barbiere lui me l'accorce io mi divento fico stra mega fico no comunque ragazzi seriamente non siamo qui a fare vlog stupidi perché io faccio la cacca nel tetto della scuola allora ragazzi volevo davvero parlando seriamente volevo ringraziarvi si è scaricata la webcam picco e niente ragazzi che vi stavo dicendo e vi stavo ringraziando sono tutte sbavate allora vi stavo ringraziando appunto perché cioè ragazzi siete 15.000 cioè lo scorso video nello scorso vlog eravate 8.000 ora siete quasi 16.000 siete 15.000 passano non so aumentate tipo non lo so ragazzi ma vi accoppiate tra di voi cioè non lo so vi prendete tipo i conigli no 4.000 conigli 4.000 maschi 3.000 fasi si accoppiano e diventate 8.000 oh mio dio ma oh mio dio cioè ragazzi mi fa piacere però usate la protezione ragazzi oh mio dio cioè prima erano 8.000 a seguire un pazzo ora siete 16.000 no 15.500 15.000 e 250 4.900 comunque ragazzi siete un botto siete due botti cioè siete mille mila botti quanti siete oh mio dio cioè siete fantastici comunque ragazzi cioè devo dirvi grazie a tutti quanti cioè vi prenderei cioè ragazzi vi ringrazierei una a uno tipo vi mettete no tipo in una fila no tipo le poste no vi mettete la in fila e tipo io ciao piacere Pepe ho 20 anni ciao piacere Pepe ho 20 anni ciao piacere Pepe ho 20 anni cioè nel corso che vi faccio tutti arriverò a 25 anni ciao sono Pepe ho 25 anni la barba da Saddam Hussein ovviamente che continua a crescere cioè proprio vedrete il video tutto proprio con la barba che mi arriva qui nelle tettine comunque cioè veramente ragazzi cioè sono incredulo queste le fa fatto sono in terra e fa cioè sono proprio sono fatto sì sono fatto che bello oltre ai ringraziamenti volevo fare una una cosina speciale diciamo ovvero speciale non lo so se vi piacerà comunque volevo parlarvi di me siccome molti mi chiedono Pepe quanti anni hai sempre 20 eeeh ah mi pro del naso allora ok eeeh cioè siccome molti di voi me lo chiedono tipo di dove sei come fai perché sei perché ci sei dove sei perché sei perché se l'ho detto duemila volte allora volevo fare diciamo una piccola parte volevo dedicarla a me oh che carino eh volevo volevo dedicarmi quanto sono stupido volevo dedicarvi dedicarvi dedicarmi sì volevo dedicarmi questo questo che dirvi di me ragazzi ciao a tutti mi chiamo Pepe ho vent'anni no no ma perché mi prude il naso madonna mi prude in un modo sconcertosa eh allora eeeh cominciamo dai momento serio modifichiamo i lineamenti facciali allora eeeh mi chiamo Giuseppe lo avrò detto tipo mille mille volte vabbè ma si capisce penso dal pepo mi chiamo Giuseppe eeeh vivo a Palermo perciò vivendo a Palermo molti mi dicono ma quindi sei calabresa no sono siciliano eeeh un po' allora eeeh vivo a Palermo sono siciliano quindi sono nato a Palermo perciò da quando sono nato più o meno vent'anni fa sono nato qui a Palermo ho sempre vissuto a Palermo ho sempre fatto la cacca a Palermo perciò ahimè la mia cacca non si trova in Francia i francesi in questo momento se ne vanterebbero cioè sarebbero gli unici a poter dire sì abbiamo la cacca la popò la cacca pupù la cacca chiamiamola cacca pupù che carino è chiamarla cacca pupù che stavo dicendo mi ho dimenticato no comunque seriamente dico sempre seriamente e poi alla fine vado per i cazzi miei c'è incredibile mi ho smarrito ok che stavo dicendo oh mio dio perché mi perdo nel filo di un brasoio nel filo di un nel filo di un brasoio c'è incredibile certe volte c'è proprio mi smarrisco come si smarriscono le cacca pupù allora no tornando a noi ragazzi ho vent'anni sono c'è finito queste sono le nozioni di pepo che vita triste c'è seriamente oh mio dio ah no no ok 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 mi sono ricordato il naso di merda ok questo silenzio è davvero imbarazzante partiamo dal presupposto che cioè molti di voi pensano tipo oh mio dio tu avrei fatto cose nella vita che nessuno di noi ha fatto no raga le minchiate che fanno tutti faccio io ad esempio tipo eh faccio davvero tante cose ora che ci penso ne faccio davvero così tante che accumulandole proprio messe tutte qui in questa specie di craniometro no eh cioè proprio accumulandole cioè si ammassano no si ammassano si ammassano si ammassano ma diventano un tutt'uno e le smarrisco perciò va a finire che non ho fatto nulla fico no tranquilli non mi sta prudendo il naso è un effetto della videocamera oh si 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 stai registrando vi stavo dicendo appunto tipo la mia vita no proprio cominciamo dall'inizio quando sono nato come sono nato diciamo che mia madre e mio papà si sono conosciuti no questa è mia madre e questo è mio padre no si sono conosciuti e diciamo si sono come dire si sono diciamo innamorati nell'innamoraziazione cioè nell'innamorazzamento proprio si sono proprio come dire uniti in un nato e unendosi hanno fatto e dopo le spi cioè raccontato così non sembra bello però dopo nove mesi avevano fatto e sono nato io cioè vedete mi di già eh si raga sono nato io e nascendo appena sono uscito tipo immaginatevi la faccia cioè sono uscito così già con la barba già avevo pure la patente no cioè proprio c'era la mia faccia stampata con la barba sembravo addirittura billare cioè sono uscito hey good morning cioè proprio e il dottore infatti da lì quando mi ricordo sono nato e il dottore da lì oh mio dio cioè si è spaventato perché ha detto un bambino con la barba cioè sti cazzi seriamente quante volte dico seriamente poi il serio non lo faccio mai tornando davvero a parlare seriamente sono nato diciamo la vita di tutte le persone normali cioè diciamo io facevo le minchiade mia madre mi menava faceva le cose buone no non mi menava no non mi menava devo dire sono stato ho avuto un'infanzia abbastanza felice mia madre non mi ha mai picchiato tranne quella volta con il cucchiaio di acciaio inox voi direte perché tu hai cucchiai di acciaio inox no veramente mia mamma usava quelli di legno però erano talmente duri all'epoca che sembrava acciaio sarà per quello perché sono così deviato ho frequentato vabbè ho fatto le elementari le medie le superiori sono diplomato voi direte con quanto sei diplomato cioè immaginatevi la scena no io gli esami ah ecco ho frequentato il liceo artistico ci tengo a dirlo e voi direte quindi sei disegnare fico no ragazzi ho fatto il liceo artistico perché ci hanno portato a scuola un cazzo di video cioè un video del cazzo cioè un video cazzo cazzo di video dove c'era c'è il video mostrava la scuola però allora molto ingenuamente non sapevo che video si potessero modificare ecco come prendere in giro le menti delle poveri piccole menti ingenue cioè ti fanno vedere un video tipo non lo so di ragazzi che saltellano nelle classi ragazzi che saltellano ragazze che saltellano professori che saltellano cioè tutti saltavano in quella scuola ho detto oddio che è la scuola di saltolologia e niente ragazzi vedendo quel video se siete a me piaciuta non sapevo disegnare ragazzi se vi facessi vedere i disegni che facevo alle medie che ahimè non ho cioè no ahimè per fortuna non ho che sarebbe lo squallore tipo cioè per disegnare una bottiglia ragazzi facevo due linee così cioè proprio due linee una punta e un cerchio sopra figo cioè proprio un realismo iper mega ti illudono ti illudono ti fanno vedere questo video dici oh figo bellissimo e mi sono iscritto al liceo artistico ho fatto i miei 5 anni non prendete esempio da me perché cioè veramente cioè io ero cioè io sono lo schifo ho fatto persona ragazzi cioè io a scuola ci andavo sempre cioè tipo in 5 anni avrò fatto tipo 20 assenze in 5 anni perché ho dei genitori no come è giusto che sia tipo i miei genitori mi dicevano tu devi andare a scuola e ci andavo a scuola certo ci andavo assenze non ne facevo assenze però fisicamente cioè fisicamente ero là mentalmente tipo ero non lo so nel mondo di pattino ero lì a ballare con loro u i u a ci sembra no no basta cantare così bene altrimenti mi segnalano il copyright ho frequentato il liceo artistico mi sono diplomato immaginatevi la scena no agli esami di stato cioè tutto contento mi danno il foglio cioè girato cioè aspetta bello disegno mi serve una penna non c'è la penna eccola qui eccola qui eccola qui eccola qui ok stai registrando fottuta telecamera vediamo ok sì scusatemi ah ho dato una colpa oh povero schermo allora ecco immaginatevi la scena no mentre sistemo la telecamera cioè io tutto contento i professori tipo ok no scusatemi ho sbagliato ho sbagliato cioè manco una cosa so fare no allora eccolo qua ecco immaginatevi la scena no cioè voi non so se lo vedete al contrario cioè non so come cazzo funziona questa telecamera comunque i professori arrivano e mi dicono tieni questo è il tuo cioè io tutto contento vedendolo così cioè oh mio dio novantanooove poi mi dicono no signor pepo lo giri ah fico sessantasei e perciò ragazzi c'è stato parecchio brutto che bello sarebbe comunque sì sono diplomato con sessantasei al liceo artistico e poi che cos'altro dire ah lavoro con mio padre che lavoro fa mio padre vi rispondo subito mio padre fa il volgarmente chiamato fabbro ovvero qui in sicilia lo chiamiamo un ferrario un ferrario il ferraio ah che cosa fa il ferraio vende ferro no quello è il rivenditore di ferro aiuto mio padre in officina lavoriamo alluminio e ferro e quindi ovvero quello che voi avete in caso però le finestre gli infissi questo lavoro qua noi infissi porta blindata serrature bla 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 ciuccia ho la patente se non si fosse capito anzi ve la faccio no non ve la faccio vedere perché tipo dovrei aprire un mondo che poi non è che sono molto bene nella foto cioè sembro billar con la barba che mi arriva tipo al petto e poi cos'altro dirvi ragazzi cioè non so cos'altro dirvi cioè se volete sapere qualche altra cosa scriveti metta la me nei commenti e vedrò di rispondermi casomai io in un prossimo vlog dottore sì sono sudata arrivo subito ok perfetto io ho proprio le persone proprio cioè voi non le vedete ma dietro la telecamera c'è un set no proprio il set di 15.000 persone dopo che arrivano no e mi dicono uè t'asciugo io t'asciugo io t'asciugo io no non è vero ragazzi non è vero questa è la mia mano questo è il mio fozzoletto perfetto tornando a noi volevo ringraziare oltre sempre a tutti voi ragazzi grazie mille a tutti e 15.000 e passa agli iscritti volevo ringraziare anche la persona che mi ha fatto la outro metterò il suo canale in descrizione cioè raga l'outro vi spiego che cos'è l'outro non è altro che tipo la 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 il ventilatore c'è sto no ok l'outro non è altro che la gli ultimi 10 secondi del video dove appunto dove appunto metto comunque ora partirà l'outro avete visto l'outro ragazzi mi serviva una cosa del genere appunto me l'ha realizzata e sinceramente mi piace dove mi è uscita abbastanza bene bravo ragazzo che altro dirvi ragazzi ringrazio sempre Luke ringrazio sempre sempre tutte le persone del network di cui faccio parte mi trovo abbastanza bene nel network c'è una community allucinante cioè siamo sempre lì a parlare a abbracciarci ci diamo i bacini facciamoci le coccole ci tanto comunque ragazzi non vi non vi riempio di altre nozioni spero che il video vi sia piaciuto pollice in su come sempre commentino mi fa piacere che altro dire ragazzi se mi volete fare altre domande qua sotto tartassatemi di domande nel prossimo vlog vi devo rispondere a 97,42 domande almeno se ce la faccio e se arrivano e se sono domande serie perché se mi arrivano domande pepo ma tu hai mangiato uno scogliattolo sopra un albero di un koala quella non è una domanda cioè cacchio non lo fa nessuno cioè almeno Bear Grylls lo fa però ragazzi domande non lo so anche perché mi sono arrivate queste domande a cui ho risposto nel vlog cioè risposto cioè ho vagato io non rispondo ragazzi io vago proprio diciamo ho un concetto di mi sono fatto malissimo ho dato una gominata una gominata ok vi ringrazio a tutti quanti ragazzi e al prossimo vlog al prossimo video vi voglio bene ragazzi ciao ciao ok due mandatori di schede mantengono l'appropriazione del di clamberg questo test in sequenza è corretto corretto è stato bene un live fuoco correre designato verso gli androidi militari